Benvenuti in questo mio nuovo video, come potete vedere c'è la nuova stagione, la stagione praticamente origine Questa è la mappa e come potete vedere praticamente siamo tornati nella mappa del capitolo 1 Però non è tutto qua, infatti nei prossimi giorni praticamente questa mappa cambierà Infatti sappiamo che dal 9 novembre praticamente arriverà la mappa della stagione 6 Dal 16 novembre invece la mappa della stagione 7 e 8 e dal 23 novembre la mappa della stagione 9 e 10 Come potete vedere qua siamo praticamente tornati, non è finita qua Infatti praticamente adesso c'è un razzo, il razzo che c'è di solito qua a sponde Però con la macchina del tempo, come potete vedere ci sono anche praticamente le armi del capitolo 1 Questo vuol dire che probabilmente ci sarà anche un evento finale alla fine appunto di questa stagione Qua ci sarà un evento con il razzo, torneranno anche altri cambiamenti nella mappa Attenzione che qui c'è qualcuno A fine di questo mese probabilmente inizierà il nuovo capitolo e la nuova stagione Guardate qua sono praticamente tornate le armi del capitolo 1 E ci saranno probabilmente dei continui per quanto riguarda la storia Infatti sappiamo che ci sarà questo razzo qua con la macchina del tempo e probabilmente ci farà andare nella nuova stagione Vediamo se riesco adesso a vincere almeno una partita Ok prendiamo un po' di materiali Guardate praticamente c'è la mappa del capitolo 1 Vediamo se riusciamo a vincere questa partita C'è qualcuno, ecco Mi ha visto, mi ha visto Dov'è? Eccolo lì Sono in due Guardate tutte le armi del capitolo Va bene è il momento di andare in safe Che c'è praticamente la tempesta, materiali Ok si va in safe Eccoci qua condotti Qua invece c'è qualcuno Eccolo qua Evitiamo di cadere, grazie Sta andando in safe, giustamente Che si fa? Si va in safe anche noi Il problema adesso sono i materiali però Guardate lo scar silenziato Che bella mira che ho Attenzione siamo rimasti praticamente in 20 Ho finito le munizioni, questo potrebbe essere un problema Ok Questo decisamente è un problema Ok Ok c'è qualcuno Lancia granate Direttura Non mi ha visto Ok Il carrello ragazzi Il carrello Potrebbe essere un problema Attenzione Eccolo Ok ok In 5 con calma 4 Meglio salire sopra la montagna Dove sono Che mira Questo l'ho sentito Aia Eccolo Ok Ok Attenzione In teoria dovrebbe scendere No No Peccato Vabbè abbiamo visto un po' La nuova stagione Comunque noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzuoli Ciao ragazzuoli